musica ok andiamo con i gunis gongole musica 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Alla Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Alla Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Alla Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' buonissimo che l'abbiamo portato a casa Un giro bellissimo È arrivato Rossano E guarda che il sole che c'è È splendido Comunque il giro mi è piaciuto Ho curato che è la strada migliore per andare da Montepagliano e quella da Costigliore Passando da Santa Cristina al Costigliore Vicino a Paradiso e poi andando a San Michele E' in assoluto quella più veloce e morbida anche Ci sono un paio di strappi ma niente di che La discesa dei Gunnis l'hanno cambiata ma è molto carina E' buon Ci vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti